6 mesi di arresto, pagamento delle spese processuali, questa è la pena combinata dal giudice monocratico, le tribunale di Sulmona, Concetta Buccini, a due topi di appartamento SPAA, le loro iniziali, entrambi residenti fuori regione, finiti sotto processo per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. La vicenda risale al 2019 quando i due imputati, secondo l'accuso, avrebbero attentato di svaliggiare un'abitazione collocata a Villetta Barrea, piccolo centro dell'Alto Sangro. Entrambi sarebbero stati disturbati nel compimento dell'azione delittuosa dai rumori e dai sospetti revicinato, tant'è che proprio un inquilino della palazzina aveva allertato i carabinieri per le verifiche del caso. I militari avevano fermato i due soggetti rispettivamente al bar. In strada la perquisizione personale veicolare per uno di loro aveva permesso di scoprire e sequestrare cacciavite e altri arnesi, circostanza che ha spinto carabinieri e procura a indagare a fondo. Alla fine entrambi sono stati condannati per il possesso degli arnesi da scasso dal momento che l'effrazione era stata effettivamente riscontrata nell'abitazione presa di mira, però sciolti dall'accusa di tentato furto per difetto di procedibilità, poiché nessuno aveva sforto querela, diversamente la pena sarebbe stata molto più alta.